Mentre prosegue a pieno ritmo la campagna di immunizzazione al Covid, l'Istituto Superiore di Sanità conferma numeri alla mano l'efficacia dei vaccini per non essere contagiati, ma soprattutto per evitare il ricovero o l'aggravarsi irrimediabile delle proprie condizioni di salute. Il più recente bollettino di sorveglianza integrata indica che l'efficacia contro il contagio per chi ha ricevuto entrambe le dosi è pari all'88,5%, con un picco del 92,5% per le persone tra i 60 e i 79 anni, validità che scende mediamente a 71,3% nel caso di soggetti che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale. Le stime di efficacia si riferiscono al periodo del 4 aprile, data in cui la vaccinazione è stata estesa alla popolazione generale all'11 luglio. Per evitare l'ospedalizzazione il vaccino è efficace al 94,5%, anche in questo caso, soprattutto per gli over 60. Contro il ricovero in terapia intensiva la percentuale sale al 97,3%, con il 98,2% di efficacia per i 60-79 anni. Infine il vaccino completo efficace contro la morte è il 95,8%, in questo caso soprattutto per gli over 80, per i quali la percentuale è del 95,9%. Tra gli effetti della campagna vaccinale messi in luce del bollettino c'è anche la diminuzione dell'età media dei positivi al virus scesa a 29 anni. Nelle ultime due settimane 26,7% dei casi totali ha un'età inferiore a 19 anni, il 62,3 è tra 20 e 59 anni e l'11 ne ha più di 60.